Salve ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale di Noi Malati di Fut, benvenuti nella doppia play e review di Coulibaly menzioni d'onore e Teo Hernandez-Totti Teo ha vinto il sondaggio, Coulibaly era incerto tra Van Dyck, però ovviamente non potevo provarli insieme perché non ho tutta quella cifra Però prima di iniziare questo video vi riegasciaste un bel mi piace, commentate quando vedete e soprattutto iscrivetevi al canale tenendo la funzione della campanellina e qui in descrizione trovate i link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, Google Telegram e canale Twitch e mi invito a commentare con una prossima review che vorreste vedere su questo canale Vai Teo, è tuo, questo è tuo Eh male Teo, però ci arriva Coulibaly e sbaglia anche lui Vabbè, due errori, tutti e due Bravo Teo, intervento da solo, eh, automatico Bravo Teo, in scivolato, automatico, poi sbaglia questo semplice passaggio Bravo Coulibaly, anche se non mi è piaciuto questo spazzamento, però va bene bravo Bravo Coulibaly, intercettare Bravo Teo, intervento Bravo Teo, capire Dove sarebbe andata la palla, mettersi in mezzo Bravo Teo, intercetta E passa bene E passa bene E passa bene Vai Coulibaly, che intervento di scivolata, abbastanza grottesco E nemmeno molto efficace Bravo Teo, recupera posizione in rapidità e prende palla Bravo Teo, tiene posizione e toglie palla Bravissimo Teo, ancora di testa E con l'idea di pala a piede Bravo Teo, mamma mia Che scivolata Mamma mia Teo In rapidità non lo ferma nessuno Grande Teo Intercetta, anticipa Bravissimo Vai Teo Bravo Teo e Coulibaly insieme Vai Coulibaly, grande Coulibaly, recupero Grande Teo, mamma mia Come recupera due le palle Bravo Coulibaly, dopo che va run E' un po' andata a zonzo Partiamo da Calidu, Coulibaly, KK, Toti, honorable, menzioni d'onore, Toti Pagato 469.000 crediti E' un difensore centrale abbastanza interessante Però purtroppo la velocità è squilibrata Velocità squilibrata come contro Perché? Perché è ok che magari Nella partenza è un po' così e così Poi ha un'ottima velocità massima Però se nella partenza viene bruciato Poi comunque Gli attaccanti partono E arrivederci e grazie Diciamo che una volta su tre Arriva a raggiungere Però non è sempre così purtroppo Provato nel 4-4-2 Con questa squadra Per quattro partite di weekend league Tre vinte e una persa Due di skill e quattro di piede debole Quattro di piede debole Di base sono un pro ragazzi Per la maggior parte dei cristiani Passaggio non male Passaggio non male Dribbling Niente di che Però almeno è reattivo Onestamente non proprio Ha una buona reattività E una buona freddezza Difese e fisico Sono i suoi due valori principali Del quale dovete fare assolutamente Affidamento Perché? Perché Ha una capacità di intercettare Molto elevata Ha un'ottima marcatura Un ottimo contrasto in piedi E in scivolata Il colpo di testa È anche buono Per me è preferito Onestamente qualcosa in più Ma ce lo facciamo bastare 86 in salto 88 in precisione di testa La resistenza La classica di un difensore centrale Ha un'elevatissima forza È una buonissima aggressività Sull'aspetto della difesa E del fisico Ne stavete parlando Va benissimo Io le ho messo ombra Perché ragazzi Appunto Questa velocità così sbilanciata Doveva essere Un attimo ricalibrata Con l'ombra Più o meno Ma ovviamente Si continua a sentire Questo gap di differenza Tra i due valori Ahimè La difesa Non era molto importante Aumentarle Però ovviamente Difensivamente parlando È molto 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 presente È Ha un approccio Molto interessante Però Devo essere onesto Allora Varane è ancora Un bagone C'è È un difensore centrale Con 84 di rating Ma Che veramente Cimena duro Ancora Ragazzi Vabbè Mi viene al party Non so perché Ma sti cacchi Dicevo Culibali Come caratteristiche Ha forte di testa Ma Non sono Convintissimo Buono di testa Assolutamente Però forte Mi sembra Un parolone Ragazzi Nel tiro Vincito solo 75 In potenza Tiro Nemmeno ci serve Un discreto passaggio Comunque Non fa mai male In un difensore centrale Come work rates Alto in difesa Medio in attacco Body type Unico Come alternative Nella Premier rig Sicuramente Varane Poi Poi possiamo Anche l'88 Tipo Possiamo metterci Un white 87 Poi 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 C'è un Keir Keir Come cacchi si pronuncia 85 Van Dyke Ovviamente Van Dyke Come lo volete chiamare Poi Vabbè C'è un'altra alternativa Bene così Come indice di Hybridabilità Da 1 a 3 2 Senegal 2 più Proprio Perché Senegal C'è l'acqua Che i giocatori Tipo Mi pare Di ricordare Tipo Un manè Però Niente di Che Ragazzi Prezzo Secondo me Abbastanza elevato Non vale Quel quasi 20 milione Siamo sui 300 Proprio Esagerando A parere mio Ma venendo alle conclusioni Il mio voto Per questa carta Ragazzi Allora Difese fisiche ci siamo Però Ovviamente Ci vuole anche un po' Di velocità Un po' Di reattività Che comunque Non gli manca Ti do Un 7 Più Veniamo invece adesso A uno dei terzini Forse Al momento Il terzino sinistro Più forte Che possa essere In circolazione Su questo foot Non ho avuto Mai l'opportunità Di provare un terzino Così forte Sono interista Però Doveva essere anche obiettivo Teo Hernandez Totim Pagato 1.286.000 Crediti È costosissimo È costosissimo Però Ha delle qualità immense Cioè Lui Può fare Qualsiasi ruolo Qualsiasi ruolo Tipo Se lo mettiamo in attacco Arriva a 88 di rating Senza stile intesa Ed è il rating minore Io l'ho provato Con lo stile intesa Dovrebbe essere Spina dorsale Che aumenta passaggio Difese fisico Sono quei valori Che in divisa Potrebbero tornare Più utile 3 di skill 3 di piede debole Peccato Almeno Un 4 di skill Non avrebbero Fatto male Ragazzi Alto in attacco E medio In difesa Come Borges Velocità Allora Anche il passaggio Velocità Passaggio Difesa Fisico Cioè Tut Tut Non lo so Terzino completo Terzino Completo Perché Perché è anche un buon colpo di testa Con un terzino Buonissimo Giocatore che non si stanca mai Ragazzi Non si stanca mai A forza Aggressività Intercetta Buonissima marcatura Contrasti in piedi Contrasti scivolata È agile Mantiene l'equilibrio È reattivo Sa controllare la palla Sa dribblare Sa avere freddezza E compostessa Compostezza Non ha calci piazzati Questi ragazzi Ha un buon effetto Ha un passaggio lungo Buono Sa crossare Ha un buonissima visione E sa anche passarla nel corto Il tiro Forse è la qualità Proprio Minore Che possiamo ritrovare Perché 77 finalizzazioni Non è elevato E vabbè Ci possiamo stare Un terzino Che cazzo devi fare Deve insegnare Però potenza tiro È un discreto Longshot 80 ragazzi È velocissimo È velocissimo Onestamente parlando Secondo me È il terzino Più veloce Probabilmente che esista In Serie A È sicuramente Il più forte È il più forte Cioè Ma veramente Non serve nemmeno Descriverlo Più di tanto Perché Voi lo prendete Lo provate E ci sta Magari nella prima partita Ho notato Che non era Tuzza forza Però poi Nella seconda Nella terza Anche quando ho perso Lui dà il suo contributo Lui c'era Non c'era molto In fase offensiva Ma sti cazzi Perché comunque Li metteva la tattica Di restare più in difesa Ma in fase difensiva Recuperava Contrastava Marcava Andava in scivolata Per cercare di recuperare Palla Ragazzi Veramente tanta Tanta roba Come caratteristiche Solo dribblatore veloce Strano Perché comunque Dovrebbe avere Tipo qualcos'altro Non so Motorino Cioè Comunque È un giocatore Che corre sempre Ragazzi Come alternative In Non ce ne sono Perché è unico È unico Nel suo genere Ma anche come altre alternative Secondo il footbill Non ce ne sono Ragazzi Stile intesa Optiamo O per Spina dorsale O per Guardiano Però io Andrei Suspina dorsale Che lamenta Passaggio Difesa E fisico Anche se il passaggio Non è chiaramente più di tanto Però Va bene lo stesso Come indice di Ibrida Abilità di una 3 3 Allora Serie A Milan E Francia Top 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 Ma Venendo alle conclusioni Per questa carta Il mio voto Per lui Ragazzi 10 No Quasi Quasi C'è qualcosina Che magari gli manca Appunto Sì Un pochino di Precisione In fase difensiva Non li guasterebbe E Il tiro Col tiro sarebbe stato Veramente Top 9.5 Come voto Non ha De contro Netson Appunto Il prezzo Ma Quello arriverà Sul milione Più o meno Ma è giusto Pagare un terzino Uno dei più forti terzini Forse Top 3 Assolutamente In questo momento Ma Ditemi voi Cosa Pensate Di queste carte Di queste review Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Un commento Un condivisione Con GbSpo Vi saluto e vi ringrazio Ciao belli Musica 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 Ciao